Noi non possiamo permetterci assolutamente di consumare nelle nostre case il latte che è il prodotto più utilizzato dalle nostre famiglie e non sapere da dove proviene. Quindi chiediamo assolutamente che ci sia chiarezza nell'etichettatura e che quindi anche nel latte a lunga conservazione sia scritto il luogo di mungitura perché vogliamo sapere e io voglio sapere se il latte che acquisto proviene dal nostro territorio o se viene importato da altri paesi così come è giusto che ogni prodotto derivante dal latte e quindi mi riferisco a tutti i formaggi, latticini e mozzarella abbiano scritto nell'etichetta il luogo di provenienza. Il tema vero è quello di aggiungere a quanto già previsto della legge che però non basta perché non lega il prodotto fatto in Italia e in Veneto alla produzione delle materie prime locali del Veneto italiane. Questa operazione di legame va fatta con un'operazione culturale i cui comuni diventano evidentemente il centro. Tutti i comuni della nostra regione hanno una serie di rapporti con la media e piccola distribuzione che loro autorizzano. Oltre che con la sensibilizzazione generale del cittadino circa il 40% dei nostri comuni sono sotto i 3.500 abitanti quindi c'è un rapporto diretto quindi è necessario trasferire nei consigli comunali e sull'attività amministrativa dei comuni i contenuti di questa nostra iniziativa. L'aggiunta regionale deve muoversi sulle autorità competenti perché si verifichi quando è scritto qualcosa di sbagliato. Dobbiamo parlare ai consumatori, dire loro di leggere le etichette, di essere consapevoli che si deve andare a vedere che un nome che potrebbe avere un nome di un territorio magari non è esattamente quello. Per cambiare le abitudini, quindi lavorando sulle giovani generazioni, noi otterremo il grande risultato di rendere consapevole il cittadino consumatore ma chiederemo al Parlamento e al Governo di rendere obbligatoria la scrittura nelle etichette.